Allora, noi vi mostriamo delle immagini, voi dovete provare a chiamarle in occitano Microfon Non so come dire in occitano Microfon, non lo so Qual è lì? Microfono Lo microfono? Non ho parole Jeannabelle Microfono Microfono Ah, il Bluetooth Microfono Istintur Istintur Lufwek Istintur 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 Cos'è? La Pumpo Pumpa La Pumpo La Pumpo Pumpo Istintur Pumpo Pumpo Neste Ndart Neste Ndart Neste Ndart Gaiardet Genovell Ino Gavaddo Ehh... Il drappò No ragazzi non posso farlo Così il bagnerino Ndrasu Eh? Ndrapeu Gaiardau Gaiardau El mocho Por... Campe... Campevielo No ramassa Ah, per balaiar, come si dice? Pulava pavimenti Un scopu Un scopu Stia difficile Stras Nes stras Un mocho da nada Panasa plus sol Ah, la peia La peia e la ferraza Un peio? L'unicio paviment Gaiardau Gaiardau Baricule Baricule Spezzetti Spezzetti e gelovese Gaiardau Baricule Bluette Baricule De lunetos A Gaiardau Da su lei Leggio Eh... La musica Eh... Non leggio Eh... Ma con che serve per leire la musica? Brave Questa non lo so La fa per leire la musica? La musica Ma anche in italiano lo so Un porto musica, credo, ma non lo so Un porto musica, credo, ma non lo so A cui si intemplevo elettrico? Interruttore La luce Il quadro elettrico Il quadro della luce? Ah no, l'ascosso L'ascosso? Il quadro dell'Enel Questo è un quadro elettrico? Un quadro Un quadro Un quadro Un conto Un tablet Un tablet Eh, non ne ho idea, non ne ho idea, ragazzi, non ho proprio idea Portamantel La Grecia Un portamantel Ometto Ometto Portamantel Un gruccio Non l'ho mai detto, mi ha sempre ritirato la roba mia madre Ah, un porto vestito Smartphone Eh, perciò a me Telefono A parte un po' il passato Piantare un frubio Ah, l'ufolun Un telefonino L'ufolun Un telefono Un telefono Un telefono Un telefono No, è Android Un telefono Android Un telefono Questo che scrivi Un telefono Li fum! Celulo...Celularu!